Il comitato di quartiere Sant'Alberto chiede la revoca dell'ordinanza sindacale che lo scorso 16 di luglio ha istituito una zona pedonale a cavallo fra le vie Titolo e Ravidà. La zona pedonale, secondo i richiedenti, se potrebbe avere un senso durante la stagione estiva, diventa inutile durante il resto dell'anno, considerato che vengono a mancare i parcheggi. I commercianti chiedono che venga riattivata l'area di sosta. Chiediamo al sindaco che questa qua non può essere una zona pedonale, io ho una vita che sono qua da 40 anni e cose pedonali non ci sono state mai, di vieti non ci sono state mai, siamo lavorati tutti assieme, siamo buscati un pane tutti assieme, le persone che devono passeggiare non trovano passeggio, stanno a cattare un mazzo di insalata, se ne vanno più avanti dopo c'è il passeggio. Questo è quello che voglio dire, io persone, ti mandavo che c'è questa strada chiusa, persone che passeggiano 6 da 0 la mattina, io non ho visto mai. Signor Zichichi, voi lamentate che attiguamente a questa piazza c'è anche il marciapiedi della velletta della Madonna, dove gli alberi praticamente invadono per intero il marciapiedi, difficoltà per i pedoni e difficoltà anche per i vostri clienti che non riescono a parcheggiare perché molte volte proprio i rami strisciano sui tetti dell'auto. Sì, in effetti questi rami degli alberi sono abbastanza lunghi che se non vengono più presto tagliati arriveranno pure per terra, oltretutto le luci che loro hanno messo a led, meravigliose, che farebbero tantissima luce, sono oscurati da questi rami e noi se la sera non accendiamo i nostri fari davanti al negozio saremmo totalmente al buio. Io chiedo semplicemente che vengano puliti questi alberi in modo che il marciapiedi rimane più pulito, c'è più luce, c'è più avviabilità. Assolutamente condivido quello che ha detto poco fa il signor Borgarello, che diciamo essendo che c'è un trattico, un ciccolante che è 0, di conseguenza è una perdita nella mia attività.